Sarà Capelli Osia del circolo nautico San Benedettese da prodare in Costa Rica, che possa nella finale Offshore World Championship 2014 di pesca sportiva. Questo è il verdetto della classifica dell'Albacore Offshore Tournament di Mola di Bari, in cui al primo posto ha vinto l'equipaggio capitanato da Sandro Onofaro, grazie alla cattura e il successivo rilascio di Alalunga e Tonno Rosso. Abbiamo camminato a 42 nodi, abbiamo seminato tutti distaccandoli di almeno 15-20 minuti e abbiamo calato prima degli altri, quindi diciamo che siamo stati fortunati, il pesce era lì e ha boccato subito praticamente dopo i primi 5 minuti di pesca. Organizzata dalla Puglia Sport Fishing in collaborazione con le associazioni Fishing Game, ADS e Circolo Vela Mola, ADS ed inserita nel circuito dell'Italian Sport Fishing Master Circuit, la manifestazione permette anche l'accesso alla finale internazionale EFSA, la Federazione Europea dei Pescatori Sportivi in Mare di Miami 2015. Noi con la nostra associazione, la neonata Puglia Sport Fishing, appunto che ha organizzato la terza edizione dell'Offshore Wash Championship, vogliamo portare avanti proprio il progetto del tag release, del catch release, per cui benvengano queste occasioni per testimoniare, per far vedere anche chi non conosce la pesca sportiva effettivamente di quello che noi invece andiamo a fare che di fatto è una pesca ecosostenibile. L'obiettivo è quello di allestire un circuito così consolidato per gli appassionati in cui l'Albercore Offshore Tournament può senz'altro candidarsi a tappa di riferimento per il sud Italia. Dall'Adriatico agli oceani americani dunque per una gara che nonostante le avverse condizioni meteo non ha impedito ai partecipanti di competere al meglio delle proprie possibilità. Quando c'è poco pesce bisogna insistere, insistere, insistere e soprattutto devi riuscire a trovare quella tra le mille cose che hai imparato negli anni che funziona a quel giorno, a quell'ora e in quel momento.